Attività commerciali aperte fino alle 23 a partire dal 1 luglio. Già sono diversi infatti gli operatori commerciali di Capaccio Scalo che hanno aderito alla proposta del consigliere comunale con delega alle attività produttive Cascenzio Franco, offrendo così un servizio aggiuntivo a cittadini e turisti durante il periodo estivo. Dalle attività infatti resteranno aperte fino alle 23, consentendo ai cittadini e turisti di acquistare beni di prima necessità o di dedicarsi allo shopping anche nelle ore serali. C'è stato subito una grande intesa con le attività commerciali di Capaccio Scalo che hanno deciso così di prolungare l'orario di chiusura offrendo un servizio aggiuntivo sia ai residenti che ai turisti, dichiara il consigliere delegato Cascenzio Franco. L'iniziativa parte da Capaccio Scalo ma l'invito ovviamente è esteso anche alle attività commerciali presenti in altre zone del comune. Dal canto nostro ci stiamo impegnando per far sì che durante le ore serali ci siano più corse del servizio di trasporto urbano al fine di consentire ai turisti di potersi spostare più agevolmente dalla fascia costiera alla zona commerciale.